L'anticipo del girone D di seconda categoria propone un vero e proprio testa coda, visto che i padroni di casa del San Vito 83, reduci da sei vittorie consecutive, capeggiano la gradatoria pari merito col Torre Vecchia, mentre gli avversari di turno del Montupoli occupano il gradino più basso. Le premesse per assistere ad una gara dall'esito piuttosto scontato vengono confermate quasi subito. Dopo sei minuti registriamo il debole diagonale in corsa di Altobelli che non sorprende Ronchi. Il numero uno del Montupoli commette invece un errore decisivo quando al sedicesimo esce in maniera troppo precipitosa dei pali e non aggancia il traversone di Micozzi, facendosi così beffare da Nardone che approfitta del gradito regalo e infila il portiere avversario con una tranquilla palombella. Gli ospiti non riescono in alcun modo a reagire e al venticinquesimo subiscono anzi il raddoppio. Stavolta è Veri che riceve l'imbeccata di Nardone, sfugge al controllo di Bucci e aggira Ronchi per il meritato gol sanvitese. La risposta degli ospiti è affidata al calcio piazzato di Giannini senza pretese. Poco dopo la mezz'ora Zinni tira in maniera piuttosto frettolosa e non riesce a sfruttare una favorevole occasione. Poco dopo Ronchi alza in corner sulla conclusione dal limite di Altobelli. Successivamente il numero uno del Montupoli, che vuole evidentemente riscattare il decisivo errore iniziale, salva la propria porta sul tiro ravvicinato di Nardone. Al trentacinquesimo rileviamo le proteste dei padroni di casa per un presunto intervento con le mani di Ronchi fuori dalla propria area. Il signor Gerardi lascia in ogni caso proseguire. Massimo Delutis, il migliore degli ospiti, prova ad impensierire Iezzi che controlla senza affanno la conclusione dal limite dell'attaccante Biancazzurro. L'ultimo assalto del primo parziale è finalizzato da Firmani che in rovesciata non riesce a scalfire la retroguardia sanvitese. Primo tempo che va dunque in archivio col doppio vantaggio dei padroni di casa. La seconda frazione si apre con il calcio piazzato di Firmani alzato sul fondo dalla barriera avversaria. Al ventesimo il direttore di gara non convalida la rete di Pomponio per un presunto tocco di mano in area che scatene le proteste di quest'ultimo, già ammonito, che riceve di conseguenza il cartellino rosso che lo costringe alla doccia anticipata. La gara del Montupoli, iniziata sotto i peggiori auspici, prosegue sulla stessa falsariga. Al ventiseiesimo arriva il terzo gol sanvitese che manda gli archivi ogni discorso. Il realizzatore è Altobelli che da posizione assai defilata scavalca il neoentrato Cicchitti con un calcio piazzato assai velenoso. Il poker sanvitese è nell'aria ma l'intervento di Cicchitti su Verì rimanda all'evento di pochi minuti. Nel frattempo c'è gloria anche per Iezzi. Il portiere sanvitese risponde distinto ad una fortuita deviazione di caporale. Come anticipato, al quarantaduesimo i padroni di casa completano l'opera, mandando il pallone a gonfiare la rete per la quarta volta. Stavolta il mini Torello, in area tra Zinni e Verì, viene concluso da quest'ultimo che infila il malcapitato Cicchitti e realizza in tal modo la sua doppietta personale. Vittoria ineccepibile del San Vito 83, settima consecutiva, che conserva il primato in classifica ma con gli orecchi puntati ai risultati delle dirette rivali Torrevecchia e Real Rapino. Per il Montupoli una giornata da dimenticare in attesa di tempi migliori. Sergio Confessore, tecnico del Montupoli, formazione che si trova impelagata in una situazione di classifica piuttosto drammatica e che oggi a San Vito non chiedeva certo di ottenere tre punti con la prima in classifica, però quantomeno di portare a casa qualche punticino. Ci siamo riusciti, volevamo riuscirci a portare a qualche punto, ma purtroppo la partita l'ha vista tutta quanta, anche lei compreso. Veniamo da una grande sfortuna di giocatori che si infortunano purtroppo. Ce ne mancano due importanti a centrocampo e purtroppo siamo carenti a centrocampo, non possiamo fare diversamente. La classifica ci penalizza molto, ci penalizza perché non meritiamo l'ultimo posto, veramente con il cuore non meritiamo l'ultimo posto. Causa alcune volte nostra, più volte degli albitri, perché veramente ci danno addosso in tutte le maniere, anche oggi si è visti i primi due gol presi che li ha fatti l'albitro e non la squadra avversaria. Nulla a togliere all'avversario perché gli avversari per non niente sono i primi in classifica. Adesso la vostra corsa è indirizzata su un paio di squadre, Iconicella e Fossacesia 90. Iconicella, Fossacesia, Sant'Anna, anche Sant'Anna. Noi facciamo delle belle partite, delle belle prestazioni, però vengono macchiate alcune volte dal risultato bugiardo, molto molto bugiardo. Piofiore di Vincenzo, il tecnico della capolista che ha ottenuto con quella odierna col Montupoli, la settima vittoria consecutiva. Una bella rimonta e ottime prospettive per il futuro. Sicuramente, adesso le cose si sono messe abbastanza bene, abbiamo avuto gli ultimi problemi solo con il campo, però come squadra penso che adesso siamo assestati abbastanza bene e i risultati ci stanno dando ragione. Oggi con l'ultima della classe era il risultato piuttosto prevedibile. Sì, però purtroppo sono queste le partite che spesso rovinano i campionati alle squadre. I miei ragazzi non erano motivati tanto, all'inizio abbiamo sofferto una squadra che comunque la matematica dice che ultimi in classifica e non era il caso di soffrire così contro il Montupoli. Loro hanno giocato con molta green, con molta decisione e sinceramente mi dispiace per la posizione che occupano in classifica. Lotta finale ristretta a tre squadre, voi Torrevecchia e Real Rapino? Io penso che il calendario alla mano il Torrevecchia, questo campionato l'abbia quasi vinto perché è nettamente favorito proprio dal calendario. Noi abbiamo le prime sei in classifica, tutte sei fuori casa. Conoscendo la mia squadra, conoscendo l'esperienza delle squadre avversarie penso che il Torrevecchia abbia qualcosa in più e abbia anche il calendario a favore.